Benvenuto a Paolo Paschetta, Country Red Italia per PICTE Asset Management. Iniziamo con una piccola riflessione su come sta andando questo 2019, poi dato che siamo al Salone dei Risparmi, il tema della sostenibilità e degli investimenti sostenibili è al centro appunto della scelta di quest'anno, capire come viene interpretato dalla vostra società questa tematica. Certo, diciamo che il 2019 ovviamente è iniziato molto bene, ci tengo anche a sottolineare che chiude un 2018 che per noi è stato eccezionale, in Italia abbiamo raccolto quasi 2 miliardi, quindi un risultato estremamente buono sia da un punto di vista assoluto che da un punto di vista relativo, considerando che il 2018 segna un po' uno spartiacque tra l'era pre-Mifid 2 e l'epoca post-Mifid 2, un'epoca un pochino più complicata, cambiamento della regolamentazione, ritorno della volatilità, ritorno delle performance negative. Questo inizio anno è caratterizzato da indici tutti con il segno più, quindi indici azionari positivi, indici obbligazionari positivi, le commodities bene, e quindi diciamo che gli investitori stanno tirando un sospiro di sollievo, visto che tanti hanno avuto delle performance negative sui portafogli del 2018, ciò nonostante noi consigliamo la prudenza, ci aspettiamo che la volatilità continuerà nei prossimi mesi, per cui consigliamo un approccio conservativo dei portafogli conservativi e soprattutto di spostare l'orizzonte temporale a lungo periodo. E quindi, come dire, stiamo consigliando fortemente di utilizzare strumenti di investimento classici, ma intramontabili, che sono i piani di accumulo, intesi come strumento volto a dare un servizio al cliente, quindi smussare picchi di volatilità, ma gestirne l'emotività. E a questo proposito abbiamo messo in piedi una campagna commerciale che ci vede sostenere tutti i costi di apertura dei pack da qui a fine anno. Sul tema della sostenibilità del Salone? Il Salone del Risparmio è incentrato sul tema della sostenibilità, per PICT la sostenibilità è un tema davvero importante, fa parte del nostro DNA. Diciamo che la sostenibilità nel mondo degli investimenti per noi non è certamente marketing, ma è un fatto. Noi investiamo in sostenibilità da oltre 20 anni, siamo tra le prime società ad aver firmato i principi per gli investimenti responsabili delle Nazioni Unite. siamo nel 2007, abbiamo lanciato il nostro primo fondo tematico ambientale, il Water, che rimane il più importante del suo genere nel 99. Abbiamo integrato i principi ISG nei processi di investimento di tutti i nostri fondi e siamo ufficialmente classificati tra le principali tre società di gestione in Europa per quanto riguarda gli investimenti sostenibili. Quindi questo è il mondo della sostenibilità per PICT. All'interno del Salone abbiamo deciso nella nostra conferenza di portare a terra questo concetto, rendendolo vicino alle nostre vite. e quindi parlando della crescente rilevanza della sostenibilità nelle nostre città, nel nostro mondo, nel nostro habitat e delle innovazioni tecnologiche che stanno lentamente ma inesorabilmente andando a ridisegnare i modelli di vita all'interno delle nostre città, rendendole più smart. Da qui il focus sulle smart city e il titolo della nostra conferenza che è Smart is the new black.